Sono stanchissimo, ma veramente stango, ho chiesto un passaggio a questo bel ragazzo, mi porti dalla sposa, secondo me non ci arriva, non ci arriva, non ci arriva, ecco qua, però mi ha portato a destinazione, eccola qua, buongiorno, ecco buongiorno, l'ho beccata a fare il brindisi, ciao chi sei? Michela, Michela da dove arrivi? Da Parma, guarda cosa ti ho regalato, perché sei la cinquantesima sposa della settimana e quindi hai vinto una banana all'interno, c'è il marzapane, mi piace marzapane, nutella, allora intanto che noi parliamo, metti il quadretto, oh che bello, benissimo, buonasera, questo è il telegiornale di Parma, a Parma è successo che Michela ha deciso finalmente di prendere questa grande grande strada, questa decisione difficile, difficilissima, quanto? Quanto? Insomma qualche anno, mi sono divertita prima, quanti bicchieri d'acqua hai bevuto prima di prendere questa decisione? Tanti mojito, chi è il fortunatissimo? si chiama Rodrigo, zio, come? Rodrigo, Rodrigo che è di dove? Cileno, cileno, ma non capisco niente, sono sordo stasera, sono sordo, sono sordo, cileno, sei andata tu là o lui è venuto qua? No, lui è venuto qua, hai capito? Cosa ha detto? Mamma mia, ti ha fatto una dichiarazione in italiano oppure in spagnolo, perché lì si parla spagnolo Devo stare fermo perché sono emozionatissima, perché mi devi dire? La dichiarazione te l'ha fatta come? Non si può dire a quello? Sì vabbè, laviamola Tecchiero mucho, bello, 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 senti un po', allora vi sposate quando? Il 2 settembre 2 settembre e tutte le amiche sono contentissime? Certo C'è sorelle? No, fratelli? No, mamma è contenta? Sì, papà sai? Sì, è il mio bambino, un bambino di 5 anni Cioè tu hai già un bambino di 5 anni e non ci hai detto nulla! Quindi quando si sposeranno ne faranno un altro? Ecco, infatti magari sì, aschio femmina? Un bambino, che si chiama? Alberto, io pensavo un nome cileno invece Tipo Carlos, eh? Volevo chiamarlo Carlos! Perché io sono DJ Carlone, in arte Carlos Allora la prossima volta, anzi quando torni dal viaggio di nozze che vai, dove? In Kenya In Kenya, c'è Cileno, Parma, vanno in Kenya, che è a metà strada Quando torni ci porti un bel cosciotto, cosciotto? No, non si dice cosciotto No, una bella coscia, un bel prosciutto di Parma Va bene, assolutamente! Sì, ma intero però, strada facendo sì non si mette Allora Michela, Michela grazie assai, fai un bel saluto Prima, no aspetta, prima in Parmense e poi lo dici in cileno Un saluto! Ciao! E dai, è su, è su! Hola amigo! Ciao a tutti! Sei parmense? Sembrava quasi pugliese Ciao da DJ Carlone, Michela Ciao! Ciao! Ciao!